Oggi vi porto qui sul canale lo snut ottico più piccolo, più portatile e soprattutto il più economico che esista in circolazione. Se vi sto incuriosendo rimanete lì perché ve ne parlo subito dopo la sigla. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come prima cosa vi chiedo un favorone. Visto che vi porto un sacco di contenuti che non vi porta praticamente nessuno qui in Italia e un sacco di prodotti a tema foto e video, mi raccomando mettete un bel like, iscrivetevi al canale. Questo per me è molto importante, il canale sta salendo ma molto molto lentamente quindi aiutatemi. Ok, detto questo volevo parlarvi di una nuova collaborazione che ho avuto con Digital Photo. Mi hanno scritto tramite Instagram dicendo vuoi provare questo nostro nuovissimo snut mini? E mi sono detto chi sono io per dire di no? No, quindi gli ho detto di sì, non conoscevo il brand sinceramente e non mi aspettavo chissà quale prodotto. E invece mi devo ricredere. Allora, come prima cosa vi arriverà a casa questa scatola in cartone e una volta che l'aprite troverete questi accessori al suo interno. Partirei col farvi vedere questo prodotto perché come vedete è estremamente piccolo, estremamente portatile e come vi ho detto prima economico. Parto subito dal prezzo, se andate sul sito loro lo trovate qui sotto in descrizione, costa solo 65 euro, mentre se andate su Amazon lo trovate a 85. I link li trovate sempre qui sotto in descrizione. Se non sapete cos'è uno snut ottico ve lo faccio capire a grandi linee al volo. Non è nient'altro che un modificatore di luce, quindi da una parte ci andrà la luce, dall'altra parte uscirà la luce e grazie a delle forme che andremo a mettere qui dopo ve le faccio vedere quella luce avrà una forma. Lo snut ottico è uno di quegli accessori che secondo me non può mancare se siete videomaker o se siete dei fotografi e questo perché vi permette di creare delle foto completamente diverse da quelle che potreste creare con normalissime luci, con normalissimi softbox. E questo perché sia potete rendere una scena interessante anche se non lo è, intendo dire se fate una foto con una modella con un muro bianco dietro a me non piace per niente, verrà una roba ultra piatta. Se dietro la modella ci andiamo invece a posizionare appunto delle forme di luce magari anche colorate, riuscirete a creare dei set anche in location un po' così e così molto ma molto più interessanti. Qui sul canale ci sono vari video dove sono andato ad utilizzare degli snut ottici, magari date un'occhiata perché ce ne sono veramente tanti e ci sono all'interno di quei video anche molti risultati. Detto questo partirei dalla costruzione che è tutto in metallo, estremamente solito e costruito veramente al top. La particolarità di questo snut è che ha tre possibilità di attacchi. Allora la parte che c'è qui dietro come vedete si può andare a rimuovere, ok? E questo ad esempio è l'attacco Zhiyun perché in confezione infatti ne abbiamo altri due. Quindi sono tre attacchi completamente diversi. Digital Photo ha creato questo mini snut per le luci di Zhiyun appunto, quelle di Smorrig, quelle da 60 watt di Smorrig e quelle di Ulanzi. Se volete un approfondimento su queste luci le trovate tutte che recensite qui sul canale. Normalmente gli snut ottici hanno questa forma qui. Come vedete è veramente enorme da portare dietro, è veramente un disastro e più che altro pesano veramente tanto. Questo peserà un chile e mezzo, due chili, una cosa del genere. Questo è quello di Gotox nuovo, si chiama MLP, lo vedete qui. Ce l'ho in prova, arriverà chiaramente una recensione su questo prodotto e altri prodotti di Gotox che mi sono arrivati da poco, ma questo ad esempio è quello di Nanlite. Come vedete anche questo è molto grosso, pesa un bel po' di meno rispetto a quello della Gotox, però stiamo parlando di un prodotto difficilmente trasportabile. Il costo di questo tipo di snut che sono assolutamente super professionali si aggira intorno più o meno ai 500 euro. Calcolando che lui ne costa 65 barra 85, capite bene che la differenza di prezzo è veramente enorme e chiaramente anche la differenza di dimensioni. Ma andiamo a vedere come funziona. Allora, andiamo a prendere l'attacco Zhiyun. Adesso andremo a utilizzare appunto un farettino della Zhiyun. Prendiamo questo, che è quello da 60 Watt RGB. Anche di questo trovate una recensione. E vi ricordo che per quanto riguarda Zhiyun, quelli da 60 e da 100 hanno tutti lo stesso attacco. Lo andiamo ad infilare qui. Non sentiremo un clack, perché questi prodotti non hanno la sicura. Quindi state attenti quando lo girate, perché è facile che si possa togliere. Comunque, una volta che è in posizione, lui praticamente è pronto. Ragazzi, guardate che figata avere un setup così piccolino. Andiamo a prendere la batteria della Zhiyun. Chiaramente possiamo andarlo ad utilizzare anche con il caricabatterie o con una V-Lock. Una volta acceso, chiaramente la luce uscirà da qui. Adesso ve la punto dietro di me. Ecco fatto. Ed ecco lì la forma di luce. In questo momento però, come vedete, facciamo così che è meglio, è completamente fuori fuoco. Infatti, questa parte nera si può girare per poter mettere a fuoco la forma di luce. Adesso cerco di farlo così. Lo vedete che così è tutto a fuoco? No, non è neanche tutto a fuoco. Ecco fatto. Così è a fuoco. Ora, questo farettino è RGB. Quindi posso andare in un click a cambiare, chiaramente, il colore della luce che esce. In confezione abbiamo ben 13 o 14 di queste forme qui. Quindi adesso prendo una formina con una forma un po' più decente, la metto in posizione. Questo è magnetico, quindi la forma non va da nessuna parte. Molto comodo. Vado a switchare. Ed ecco un'altra forma di luce. Possiamo chiaramente metterla un po' più a fuoco o meno a fuoco, dipende da come volete la foto finale. E visto che abbiamo un farettino da 60 watt RGB, adesso vado a posizionare la luce in modalità CCT ed ecco quello che può avvenire. Allora, il mio studio è molto illuminato. Qui ho una 60 watt, anzi un 80 watt se non sbaglio. Qui sopra, come rim light, ho una 150. Quindi lo studio è molto illuminato. E come vedete, effettivamente, comunque, la luce che esce da un farettino da 60 watt sulla parete, si vede. Ma perché vi racconto questa cosa? Perché ho fatto delle prove comparative tra lui, quindi un mini snoot così piccolo e così poco costoso, contro una roba del genere. E quello che ho notato è che da lui esce molta meno luce. Adesso mi spiego meglio. La prova che ho fatto è stata questa. Sono andato in salone di là e ho messo tre faretti da 60 watt, uno Analyte, uno Godox e uno Zhiyun. Diciamo che più o meno avevano tutti la stessa potenza. In realtà non è così. C'è chi è più potente di un terzo di stop, chi è un po' meno potente, però sono abbastanza simili come potenze. Poi ho messo lo snoot ottico di Nanlite su il farettino Nanlite, su quello di Godox, quello di Godox e chiaramente lui su quello Zhiyun. E la quantità di luce che esce da questo mini snoot è molto minore rispetto agli altri. Ho impostato la macchina in questo modo. Lo shutter era a 100, gli ISO erano a 160. Non mi chiedete perché ho messo 160? Non lo so neanch'io, però era a 160. E con Nanlite e Godox dovevo chiudere il diaframma a F5. Per avere invece lo stesso identico risultato con lui ho dovuto aprire il diaframma a F1.4. Ora, da F1.4 a F5 sono più di tre stop, quindi vi posso dire a spanne che lui si mangia un po' più di tre stop di luce. Perché succede questo? Perché guardate la lente qui quanto è piccolina rispetto a una lente del genere. Quindi essendo più piccola ed essendo sicuramente molto più economica, la luce che andrà a proiettare sarà appunto tre stop, tre stop e mezzo in meno rispetto agli altri avendo più o meno la stessa potenza in input. Vi faccio questo discorso perché lui è molto piccolo, è molto economico e sinceramente mi sento assolutamente di consigliarvelo. Però vi devo anche dire che non è un prodotto professionale. Chiaramente costa solo 65 euro, quegli altri due ne costano più o meno 500 euro l'uno. Quindi ci sta che le lenti non siano di una qualità veramente così alta come quelle. Tolto questo problema, che come vi dicevo secondo me non è un grosso problema perché costa talmente poco che è ok, abbiamo il problema delle formine. cerco di farvele vedere chi utilizza, compreso me, gli snutottici, di solito vuole andare ad utilizzare delle forme interessanti, ad esempio quelle delle serrande, eccetera, eccetera. Ecco ragazzi, in confezione abbiamo tutte forme con questi disegni, ma non abbiamo ad esempio quella della serranda. Se voi andate sul loro sito o su Amazon trovate proprio quello della serranda, io glielo ho detto e mi hanno detto non ci piacevano, le abbiamo cambiate. Io gli ho detto no ragazzi, dovete assolutamente avere quel tipo di formina lì, non so se mi staranno a sentire, però queste sono le forme che troverete in confezione. Ma detto questo, a chi consiglio l'acquisto di questo gingillino? Ragazzi, veramente a tutti. E questo perché io ad esempio ho quattro snutottici professionali, ma il vero problema dello snutottico è che lo dovete mettere dentro questa valigia qua. E se devo fare qualcosa a Roma, devo andare qua in studio, devo andare in esterna, ho la macchina, eccetera, eccetera, chiaramente nessun problema, ma per tutte le volte che devo andare invece magari a Milano, prendo una casa, le modelle vengono dentro la casa e non mi vado a portare una roba del genere perché non so mai se lo vado ad utilizzare, non lo vado ad utilizzare, se ho lo spazio per utilizzarlo, eccetera, eccetera, lui sarà la mia scelta ideale in quella situazione. Quindi ogni volta che mi troverò in una situazione dove non so se utilizzerò o meno uno snut, porterò lui, in modo tale che comunque ce l'ho. Se invece vado a creare dei progetti appositamente con lo snut, non c'è storia, andrò ad utilizzare quelli professionali. Quindi, se volete un risultato professionale, il consiglio è compratevi uno snut professionale, se volete comunque un risultato che possa essere abbastanza vicino ad uno professionale, ecco, compratevi lui, anche perché costa poco, è leggero, lo mettete in valigia e siete a posto. Spero che escano delle forme diverse perché queste non mi fanno impazzire, però sono convinto che andare a utilizzare un prodotto del genere, specialmente nelle case, negli alberghi, eccetera, fa assolutamente tutta la differenza del mondo. Ad esempio, questa serie di foto che state vedendo le ho fatte in un angolo con due muli bianchi. Cioè, quella foto lì io non l'avrei mai fatta e non mi sarebbe mai piaciuta proprio perché sarebbe venuta di un piattume terribile. Mentre, andando a giocare anche solo con delle forme di luce, in questo caso c'era una scala ma il concetto è praticamente lo stesso, invece è venuto uno scatto veramente super top anche se abbiamo utilizzato soltanto due muri bianchi e un angolo di una casa assolutamente normale. Quindi, per quanto mi riguarda avere tra la propria attrezzatura una roba del genere che mettete nello zaino se lo usate lo usate se non lo usate non lo usate secondo me è assolutamente una cosa top ogni volta che andrò ad utilizzare luci continue mi porterò lui questa è la realtà anzi, tra l'altro settimana prossima andrò a Versavia non so quando uscirà il video ma ho 10 modelle super top studi, cose vedrete tutto e in quella situazione lì non dovrei scattare in interna nel mio albergo però una luce continua la porterò sicuro 100% e a questo punto porterò proprio lui e questo perché l'idea non è di andare ad utilizzare luci continue non è di scattare sul letto dell'albergo però se dovesse succedere andare a proiettare una forma di luce colorata dietro la modella secondo me fa tutta la differenza del mondo ragazzi non so più che dirvi è uno snoot ottico funziona decisamente bene vi ripeto l'unico vero problema di questo snoot è il fatto che perde tre stop e mezzo di luce quindi se lo andiamo ad utilizzare con luci da 60 watt dovrete alzare parecchio gli ISO e per parecchio intendo 500.000 se scattate a 1.4 però tolto questo visto che praticamente qualsiasi macchina fotografica ISO 1000 crea dei file assolutamente ok vi direi in realtà non è un grosso problema ok ragazzi vi ho detto veramente tutto mi raccomando like commento e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao